Salve, salve, buonasera, 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 brindiamo, brindiamo, buon divertico, lo, 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 la, lo, la, lo, la, lo, la, lo un saluto veloce molto veloce ci sono i follower, vedi? attenta a quello che piaci e quando vuoi rispettare? i follower è anche infettiva, si trasmette allora, te la per fare una cura, come ogni anno noi, non ce la fanno, il follower ce l'hai dentro e quando ti sfrigiona, attento noi facciamo un augurio per questo 2020 auguri anche a voi, bravi, belli no, belli no stanchi no, stanchi no, stanchi no stanchi no, sempre dai, stanchi no io vorrei un felice 2020 pieno di esse l'avevo vista anche io allerta no, no, no allerta su facebook no, perché salute sordi sordi, sapienza speranza serenità speranza sniacchera sniacchera senza senza sprunzi, capito? quindi, una cosa così l'oroscopo 2020 carabelinda sarà un oroscopo impegnativo 2020 in cui ti vedrà sicuramente protagonista la bilancia è un segno che che soppesa bene le cose bella la vita bella la vita però le cose favorevoli sono maggiori rispetto alle sfavorevoli quindi uh, grande Pedro Pedro, grazie, tanti auguri anche a te sicuramente sarai al lavoro in questi giorni vi salutaci tutti niente noi partiremo generale ora da stasera dalle 22 alle 3 ci sarà Radio del Banas Show che parte finalmente ufficialmente con 5 e 7 a una certuna si collega tramite spree tramite le nostre app diciamo ah, come l'hai inaugurato eh su, le dico del Banas Show sentono un bellissimo programma di musica perchè è un live un live un live un live del nostro Fabio Martini il nostro DJ Fabio Martini che quindi sarà in diretta per due o tre ore e lo lancerà sul Radio del Banas Show a breve ci sarà invece proprio il palinziato vero e proprio ci manca ancora delle cosine un po' particolari perchè serve un punto particolare dove ci sia una connessione abbastanza soppesa ma c'ha soppesa molto Belinda soppesa metti così no, così brutto però c'è, è quello lì è quello lì qui anche a voi anche a voi vieni vieni questi sono i followers vieni ci stai qua ci sono 16 followers eh ma non è molto bello tradizionale ti snellisce si è molto hipster siete oggi in questa parte molto bella che bellezza aspetta e beh scusa c'è un po' di trucco dietro voglio fare almeno la sopracciglia quindi noi dallo zio Charlie e mascara ci dai un po' di mascara e il nostro Paki che è in questo momento infortunato ai box secondo me l'ha fatta apposta per far cazzo le feste dici te eh è tutta una finta che poi si mette al barco e rompe anche con lui perché loro la sua imbarazzata che c'è lui contro e lo pensa un po' eh oltre tutto oltre tutto anche la bevita a pagarli perché capite fa pena sembra una chioccia sembra una chioccia il mio lì abbiamo brindato eccoci ragazzi mi raccomando mangiate il bevete e fate all'amore eh detto questo regini ti sei sbordato sta pigliando per culo tanta gente non mangiare i bevete tocca a te pigi alla fine l'ultima fine del 2020 allora la fine del 2021 pigio io ragazzi davvero mi chiusa avanti te 2020 2019 2020 tanti auguri ragazzi auguri e pigli maschi no buoni ci sono già tanti ahahahah quali c'hai madonna matriz aspetta un po' eh eh no se no perché l'ha spedito la finanza a questi ghi